Cosa ho sentito? Quell'assassino traditore di Sith, potrebbe cosa? Buone notizie ragazzino. La ricerita è finita. Sai cosa fare, bello? Mordi, tocca! Troppo lento. Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Cosa fare, bello? Dai il massimo, bello! E adesso? E adesso? E qua? Inizia a distanza, bello! Lì, bello! Lasciammi scappare! Sai cosa fare, bello? Cosa fare, bello? Cosa fare, bello! Cosa fare, bello! Cosa fare, bello! Grazie a tutti.